Per il mondo delle bocce era arrivato il momento di introdurre una grande novità. Il CIO chiedeva alle federazioni sportive di tutto il mondo di proporre nuovi sport sulla sabbia. In molti paesi le federazioni boccistiche chiedono di aumentare i praticanti e di coinvolgere di più i giovani. Gli appassionati di bocce invece chiedono più occasioni per giocare quando sono in vacanza. La risposta della Confederazione Bocistica Internazionale Beach Bocce Si gioca sulla sabbia, magari in spiaggia, ovunque si possa formare un campo di 10 metri per tre. Le bocce, quattro per squadra, fanno venire voglia di giocare. Sono decorate, piene di colori e di allegria. Scopo del gioco? Fare centro nei quattro cerchi, posti a distanza fissa l'uno dall'altro e sempre più piccoli. La partita può essere individuale o di coppia, ma chi può impedire a due famiglie di sfidarsi sulla spiaggia? Il Beach Bocce è la sintesi perfetta di tutte le discipline. Si tira da fermi, come nella petanca. Si lancia la boccia in aria, come nel volo. E le bocce sono in resina colorata, come nella raffa. Immaginate ora, grazie al Beach Bocce, quanti milioni di persone in tutte le spiagge del mondo potranno avvicinarsi al nostro fantastico sport. Grazie a tutti!